Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra. Essa esercitava tutta la potestà della prima bestia alla sua presenza e faceva sì che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia. Apocalisse 13 versi 11 e 12. Le bestie di Apocalisse rappresentano simbolicamente come tutto il resto del libro d'altronde realtà precise non collocabili esclusivamente necessariamente in un solo contesto storico ma come rappresentative di contingenze che sempre sulla terra ci sono state e ci saranno. Per esempio la seconda bestia in Apocalisse che sale dalla terra rappresenta il potere religioso corrotto, è seducente e fa segni per convincere. Infatti ogni tiranno e dittatore hanno sempre avuto i loro ministri della cultura, della propaganda o i propri religiosi di corte pronti ad appoggiare appunto il tiranno e il sistema di turno. Un po' come il faraone aveva i suoi maghi a corti, i re babilonesi avevano i loro indovini e costoro sono coloro i quali appoggiano il potere proprio come la seconda bestia. Quindi dallo spunto di una concreta e circoscritta realtà storica che certamente l'apostolo Giovanni viveva, lo Spirito Santo svela e trascende la specificità storica per parlarci di come funziona il sistema del mondo che è opposto ai progetti del padre. Sistemi dunque dal quale guardarci perché è contrario a Dio e dal quale non farci affatto influenzare. Il discepolo di Cristo in sintesi finché sarà qua giù sarà sempre controcorrente perché i valori dell'Evangelo sono assolutamente incompatibili con i valori della violenza, dell'oppressione e dell'ingiustizia che propone la seconda bestia. Grazie.